come potrebbero mai amare i genitori gli assassini di loro figlio ecco come potrebbe mai amare dio e la madonna gli uomini che hanno crocefisso ucciso virmente loro figlio sì perché sono duemila anni che ci lavano il cervello dicendoci che dio e la madonna amano la croce quella croce sulla quale bilmente gli uomini hanno ucciso gesù la verità è stata nascosta per duemila anni dalle bugie quelle bugie che gli uomini possono capire essendo maturi essendo cresciuti mentalmente attraverso lo studio di questi ultimi 60 70 anni e non sono più prigionieri di quella chiesa che per cinque secoli uccideva massa crabbe bruciava vivi coloro che non si piegavano alle loro convinzioni e così oggi la verità tutti la conoscono compreso il fatto come disse in altri video che se gesù fosse nato ai tempi dell'assente inquisizione l'avrebbero bruciato vivo perché criticava la chiesa si opponeva alla violenza e diceva sempre la verità l'unico dubbio che rimane è capire se gli uomini credono veramente in gesù e in dio o solo unicamente nelle bugie che la chiesa racconta da duemila anni ma la verità è come il sole si può coprirlo con nere nuvole ma mai spegnerlo